il presidente di regione Lombardia lo andiamo subito a salutare Attilio Fontana ben ritrovato Radio Rosso Nero buonasera a tutti e forza Milan buonasera presidente questo credo che sia uno degli ingressi migliori in onda che sono stati mai fatti presidente insomma ormai siamo al secondo incontro con con Jerry Cardinale che abbiamo già visto arrivare da lei un paio di volte in palazzo regione Lombardia mi sembra una bellissima persona una persona con le idee molto chiare che ha voglia di investire tanto sul Milan e su Milano quindi una persona di fronte alla quale bisogna togliersi il cappello e dire forza Jerry ma invece per quanto riguarda i prossimi incontri lei ha già un calendario ad esempio magari per Milan Napoli di mercoledì di rivederlo ma io sicuramente vedo Milan Napoli questa è la cosa più importante e poi vediamo se c'è anche lui lo incontro sicuramente allo stadio spero di incontrarlo così magari parliamo un attimino a proposito dei dialoghi che ha già un po' avuto con il presidente Cardinale con il proprietario anzi Cardinale Jerry Cardinale cosa l'ha affascinato a un party magari cosa l'ha convinta della bozza di progetto La Maura che ha già visto? Ma io non ho visto fino approfonditamente il progetto ho visto un'idea che è un'idea ritengo positiva che è quella di occupare una piccola parte del grande spazio che esiste e di mettere a disposizione della città invece la gran parte del parco però è chiaro che prima di fare ogni tipo di valutazione bisogna vedere nel dettaglio il progetto, valutarlo e poi si potranno trarre le conclusioni quello che posso dire è che il progetto di Cardinale non è un progetto che vada verso una speculazione ma che è un progetto sicuramente funzionale allo stadio e alla mina Ma che ruolo ha in questo momento Regione Lombardia o il peso che ha Regione Lombardia su questo? Ma Lombardia assiste nel senso che queste sono scelte che non dipendono da noi io sono dell'opinione che chi è pregiudiziale sbaglia sempre io non sono pregiudiziale né a favore né contro, sono disponibile ad ascoltare, a vedere e a valutare tutte le idee dopodiché se sarà necessaria la presenza di Regione, la Regione prima la sua parere Ma quindi le è dispiaciuto un po' vedere che una buona parte dei consiglieri comunali si è espresso già contro senza nemmeno vedere il progetto? Eh io queste sono le cose che contesto, io sono dell'opinione che per poter dare un giudizio si debba conoscere se lo si fa pregiudizialmente secondo me si sbaglia Comunque il problema che lei ha sbagliato non è una parte quasi tutti praticamente hanno già espresso parere contro Ma mentre per il Parco Agricolo Sud che ruolo ha Regione Lombardia? Anche perché c'è un ruolo legato alla nuova governance che si dovrà insediare con i tempi? Sì 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 certo, adesso verrà nominato un commissario ma comunque il Parco verrà sempre in futuro gestito dai comuni che fanno parte del Parco L'ultima cosa che le chiedo Presidente è questo punto come si può in generale in Regione Lombardia sul tema stadio? Tralasciando la zona di La Maura in generale? Io quello che ho detto dal primo giorno è che una squadra importante come il Milan ha la necessità e sottolineo la cosa, ha la necessità di avere uno stadio moderno, uno stadio di nuova generazione uno stadio che non è soltanto lo stadio ma è qualcosa di più anche per consentire di ottenere delle risorse in più Questo è il discorso fondamentale ed è fondamentale e sono assolutamente d'accordo con l'idea ricardinale che si debba dare una risposta qualunque essa sia ma che si dia una risposta al Milan perché il Milan deve impostare il proprio futuro, deve riuscire a progettare, a programmare il futuro e senza una idea, senza una notizia, senza una risposta è difficile riuscire a progettare il futuro Le strappo gli ultimi 30 secondi, abbandoniamo un secondo discorso stadio Le è piaciuto il Milan a Napoli? Il Milan di Napoli è finalmente il Milan che io adoro è il Milan che dovrà continuare ad essere tutte le partite da qui alla fine del campionato e se riusciremo ad essere il Milan di Napoli per le partite che mancano tutto è consentito e tutto è possibile non dico altro perché saranno il tuo Mi fa un nome? Beh, Leao Insomma, credo che sia la maggior parte anche dei voti dei nostri ascoltatori vanno sempre su Raffaele Leao E' l'unico che può fare la differenza uno di quei giocatori che chi ce l'ha lo deve tenere ben stretto quindi l'unico invito che mi permetto di fare firmate sto contratto più presto possibile Presidente, io la ringrazio le auguro buona serata, buona Pasqua Grazie, buona Pasqua a tutti i milanetti, buona Pasqua a voi e spero di sentirsi presto Ancora grazie al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana